Penultimo esercizio in gara dalla Raffaello Motto, il nastro di Sara Rocca. La 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 Raffaello Motto, presentata dalla ginastica Raffaello Motto e Sara Rocca. Ultimo esercizio per questa sera, il corpo libero dalla Raffaello Motto e Sara Rocca. La Raffaello Motto, il nastro di 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 Sara Rocca. E' un Hue di mestolo di Sara Rocca. La Raffaello Motto, i Ortizio Motto, i Arfaiello Motto, sono buona divisionsare. Se questa è la miseria, amici, il tuo fuoco di vita E si conclude la prova, il corpo libero di San Rocca, adareggiato per la ginnastica Raffaello Motto di Di Reggio